In apertura di settimana torna una nuova edizione flash del telegiornale di Aquiterme. Il contagio non frena e continua a crescere. Sono arrivate a 1.809 le vittime del coronavirus in Italia. In un solo giorno domenica c'è stato un aumento di 368 morti contro l'aumento di sabato che era stato di 175. Cresce però anche il numero dei guariti, sono 2.335 e 369 in più di sabato. Superati i 20.000 malati sono complessivamente 20.603 con un incremento rispetto a sabato di 2.853. Secondo il bollettino diffuso ieri sera dall'unità di crisi della regione Piemonte si sono verificati altri 13 decessi di persone positive al test del coronavirus. Si tratta di 9 uomini e 4 donne, 5 uomini e 3 donne della provincia di Alessandria, un uomo del Biellese, 2 uomini del Vercellese, un uomo e una donna del Novarese. Il più anziano aveva 92 anni, il più giovane pluripatologico 56. Complessivamente il numero dei deceduti positivi al virus sale, così a 94. 47 nella provincia di Alessandria, 5 nell'Astigiano, 5 nel Biellese, 5 nella provincia di Cuneo, 7 nel Novarese, 19 nella provincia di Torino, 5 nel Vercellese, 1 nel Verbano, Cusio e Ossola. Risultano attualmente ricoverate in terapia intensiva 175 persone. Nell'ambito del piano di reclutamento straordinario per l'emergenza, l'unità di crisi della regione Piemonte ha assegnato alle aziende sanitarie regionali 65 medici, 14 urgentisti, 34 anestesisti, 3 pneumologi, 9 infettivologi, 3 di medicina interna, un geriatra e un pediatra e 6 farmacisti. Sono invece 173 gli infermieri che hanno dato la disponibilità ad essere assunti negli ospedali. Un servizio gratuito rivolto a tutta la popolazione, in particolare a persone sole o in isolamento domiciliare per il coronavirus, ma anche a chi in questo delicato momento si trovi a sperimentare ansia, ipocondria, paura a gestire la prolungata emergenza. L'Asela di Alessandria è attivato un numero telefonico, lo 0131 306338 per fornire supporto psicologico. La linea è attiva da lunedì al venerdì con i seguenti orari, lunedì, martedì e giovedì la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17, mentre il mercoledì e il venerdì solo la mattina dalle 8.30 alle 12.30. Secondo l'ultimo bollettino del comune sono 17 le persone attualmente ricoverate all'ospedale Monsignor Galliano di Aquiterme. Come fa sapere il sindaco Lorenzo Lucchini, alcuni di questi pazienti provengono dall'Acquese, ma nella maggior parte arrivano da altri territori per supportare le altre strutture ospedaliere della provincia sotto pressione. Un principale flusso di contagi sembra essersi sviluppato in un primo momento nel Novese, nel Tortonese, poi nell'Obadese e tenderebbe ora a spostarsi verso l'Acquese. La situazione è seria, spiega il primo cittadino, ma ancora sotto controllo. La notizia positiva è che potrebbero esserci le prime dimissioni nelle prossime giornate. Viene ribadita ancora una volta l'assoluta necessità di restare a casa evitando tutti gli spostamenti non indifferibili. Anche allenamenti e attività sportiva, seppur in solitaria, sono in questo momento da evitare. La parola d'ordine di tutti deve essere prevenzione. Dopo il parere tecnico negativo di Arpa Piemonte sull'utilizzo di prodotti a base di cloro per la sanificazione delle strade, il comune di Acqui ha sospeso la disinfezione delle strade in programma ieri sera. A partire da oggi l'amministrazione comunale fa sapere che valuterà soluzioni alternative. La Croce Rossa di Acqui ha promosso una raccolta fondi per l'acquisto di presidi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale da utilizzare nella gestione dell'emergenza coronavirus. Grazie all'impegno di volontari e dipendenti, attualmente il comitato Acquese della Croce Rossa sta garantendo lo svolgimento di diverse attività, dal servizio di soccorso al trasporto dei pazienti verso le strutture sanitarie. A promuovere un'altra campagna di raccolta fondi è anche la Confraternita di Misericordia di Acquiterme. Ammontano circa 40.000 euro le donazioni totali per la città di Acqui. Parte dei fondi provengono dalla campagna Covid-19 Aiutiamo l'ospedale di Acquiterme, nata su iniziativa di Irene Valente ed Elisa Oldrà e saranno destinati all'acquisto di dispositivi medici e di protezione per l'ospedale. Palazzo Levi ringrazia poi il Rotary Club di Acqui e i Lions Club Acquiterme Host, con le cui donazioni si provvederà all'acquisto di dispositivi e materiali di sicurezza per la protezione civile. Un ringraziamento va anche all'associazione Frank One Night di Monastero Bormida e il gruppo Alpini di Acquiterme per la donazione di un'importante somma al Monsignor Galliano. I consorzi del Bracchetto d'Aqui DOCG, dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG e il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato si uniscono nella raccolta di fondi da devolvere alla Regione Piemonte per la lotta all'epidemia da Covid-19 e stanziano 10.000 euro ognuno, 30.000 euro in totale per l'acquisto di tre respiratori indispensabili all'assistenza dei malati più gravi. La protezione civile acquese ha attivato il servizio di assistenza a domicilio per tutta la durata delle misure restrittive. Per chiedere l'attivazione dei servizi basta contattare l'ufficio relazioni con il pubblico al numero 348 271 8936 oppure scrivere su whatsapp al numero 0144770307 attivi dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì. In alternativa è possibile scrivere una mail a urp-acquiterme.al.it. Impegnata su diversi fronti la protezione civile sta reclutando volontari da affiancare a questo servizio di assistenza. Tutti coloro che desiderano offrire collaborazione potranno compilare il modulo scaricabile dal sito del comune di Acqui inviandolo poi via mail a protezionecivile-acquiterme.it. A partire da ieri e fino al 27 marzo la circolazione ferroviaria sulle linee Genova o vada Acqui-Terme Genova-Busà all'arquata scrivi a Novi Ligure subirà delle modifiche per consentire il varo della trave del nuovo ponte di Genova al di sopra della ferrovia. In particolare sulla linea Genova o vada Acqui i treni faranno capolinea nelle stazioni di Campoligure-Masone o Genova-Borzoli. Da Campoligure-Masone a Genova-Pra sarà attivo un servizio bus. Tra le stazioni di Genova-Brignole e Genova-Pra i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea Genova-Brignole-Savona. Grazie per la visione!